ciao e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo un corso in miracoli oggi è arrivato il momento della lezione numero 55 siamo ancora in una lezione di ripasso e ripasso un'opportunità per sentire ancora più profondamente dentro di noi queste nuove idee questi nuovi punti di vista che forse non avevamo mai tenuto in considerazione prima di iniziare un corso in miracoli questa è un'occasione per respirarle nuovamente per metterle in pratica un po di più per farle diventare pura esperienza e perché ci aiutino nella nostra vita quotidiana il testo consiglia di praticare questi ripassi leggendo la lezione del giorno completamente la mattina quindi le cinque idee i cinque commenti e poi durante il giorno scegliendo un'idea alla volta dedicare almeno due minuti a ciascuna idea nel caso in cui un giorno tu sentissi che un'idea ti chiama fortemente puoi dedicarti a questa idea più volte durante la giornata sempre per due minuti sentendola dentro di te e ripetendola dentro te poi la sera riprendi di nuovo la lezione e leggi tutte e cinque le idee con tutti e cinque i commenti prima di dormire ora facciamo un profondo respiro inspiriamo dal naso tranquillità e pace ed espiriamo qualsiasi senso di preoccupazione timore fretta e ci dedichiamo completamente a questa lezione lezione numero 55 il ripasso odierno include quanto segue idea numero uno io sono determinato a vedere le cose in maniera diversa ciò che vedo ora sono solo segni di malattia disastro e morte non può essere questo ciò che dio ha creato per il suo figlio di letto il fatto stesso che io veda cose del genere è la prova che non comprendo dio dunque non comprendo neanche suo figlio ciò che vedo mi dice che non so chi sono sono determinato a vedere le testimonianze della verità che è in me piuttosto che quelle che mi mostrano un'illusione di me stesso idea numero due ciò che vedo è una forma di vendetta il mondo che vedo non è affatto la rappresentazione di pensieri d'amore è un quadro in cui ogni cosa attacca ogni cosa è tutto fuorché un riflesso dell'amore di dio e dell'amore di suo figlio sono i miei stessi pensieri d'attacco a far emergere questo quadro i miei pensieri d'amore mi salveranno da questa percezione del mondo e mi daranno la pace che dio intendeva destinarmi idea numero tre posso sfuggire a questo mondo rinunciando ai pensieri di attacco qui sta la salvezza e da nessun'altra parte senza pensieri di attacco io non posso vedere un mondo d'attacco quando il perdono permetterà all'amore di ritornare alla mia consapevolezza vedrò un mondo di pace sicurezza e gioia ed è questo che scelgo di vedere al posto di ciò che vedo adesso idea numero quattro io non percepisco ciò che è meglio per me come potrei riconoscere ciò che è meglio per me quando non so chi sono ciò che credo essere la cosa migliore per me mi lega ancora più strettamente al mondo delle illusioni io sono disposto a seguire la guida che dio mi ha dato per scoprire cosa è meglio per me riconoscendo che non posso percepirlo da solo idea numero 5 io non conosco lo scopo di nulla per me lo scopo di ogni cosa è dimostrare che le mie illusioni su me stesso sono reali e a questo scopo che cerco di usare tutto e tutti credo che questo sia lo scopo del mondo dunque non riconosco il suo vero scopo lo scopo che io ho attribuito al mondo ha portato ad un quadro spaventoso di esso che io apro la mente sul vero scopo del mondo ritirando quello che io gli ho attribuito e imparando la verità su di esso quindi sono libero di decidere come percepisco le cose sono libero di decidere come rispondere a ciò che mi accade perché così come vedo così è come io percepisco e così è come io sento io sono responsabile di quello che vedo scelgo quello che vedo e sono libero di scegliere quello che sento perché è tutto collegato quindi prima noi credevamo che il nostro sentire dipendesse dal mondo esterno e giustificavamo ogni cosa dicendo che stavamo così perché era accaduto questo l'altro perché questa persona ci aveva fatto così o colà ora in questo cammino è bello poter vedere accogliere accettare che il nostro sentire arriva dal nostro sistema di pensiero e da niente di ciò che accade è fuori quindi noi io voglio vedere le cose in un altro modo e perché voglio vederle in un altro modo ma perché vedendo quello che sto vedendo ora non sto bene ed esiste un modo di vedere le cose che è allineato con la verità ed è la nostra guida interiore che ci conduce a quello o così come lo chiama il testo è lo spirito santo la nostra guida interiore il nostro maestro interiore che ti porta alla percezione corretta delle cose quindi la domanda da porci ora è ho voglia di vedere le cose in un altro modo nella vita di tutti i giorni con la famiglia nel lavoro i piccoli grandi fastidi che viviamo ogni giorno quelle situazioni in cui il nostro modo di vedere ci fa sentire preoccupati irritati confusi ecco in quei momenti voglio veramente vedere le cose in un altro modo ora so che tutto questo non dipende da fuori durante la giornata abbiamo mille opportunità per farci questa domanda che potrebbe essere anche tradotta con la domanda voglio essere felice perché essere felice è inevitabile è inevitabile se scelgo di vedere le cose in un altro modo è inevitabile perché io scelgo cosa voglio sentire e cos'è la felicità se non scegliere cosa poter sentire in ogni momento scelgo di essere felice che è ciò che sono scelgo di essere felice che è ciò che sono scelgo di essere libero che è ciò che sono scelgo di essere abbondante che è ciò che sono essere felice è inevitabile perché sono libero di pensare di scegliere come vedere le cose ed è sempre è solamente una decisione tua mia nostra ora ovviamente la mentre entrerà in pista tutto motore dicendo ma come posso essere felice se mi sta succedendo questo quello come posso se mi accade tutto questo vedendo le cose in un altro modo e la mente dice ma non si può vedere le cose in un altro modo sono così come sono e quindi la domanda è sei davvero deciso a voler vedere perché ricorda che ogni stimolo che la vita ci dà ha infinite interpretazioni in base a chi le vive tutti reagiamo in modo diverso alla stessa cosa quindi è chiaro che il mondo che noi proiettiamo fuori la situazione che noi proiettiamo al di fuori di noi davanti a noi non è reale perché è diversa per ognuno la verità è una la verità è è onnipresente è immutabile quindi è chiaro che la verità è sempre lì come base e noi sopra ci ci mettiamo le nostre interpretazioni personali il libro ci ricorda anche che in realtà ci sono solo due modi di vedere un modo vero e un modo falso una percezione vera una percezione falsa la vera ci fa sentire bene in pace in unione con chi ci circonda tranquilli la falsa ci fa sentire ansia panico paura colpa poi l'idea numero due dice ciò che vedo è una forma di vendetta vediamo meglio questa parola vendetta perché probabilmente per noi ha un valore molto molto forte e possiamo interpretarla ancora una volta in modo scorretto pensiamo solo alla mattina quante volte è accaduto che ci svegliassimo lamentandoci perché siamo stanchi di andare a fare quel lavoro che non ci piace perché è solo lunedì rimane tutta la settimana davanti perché mi alzo mi vado a fare un caffè non c'è più il caffè perché avevo chiesto al mio compagno di prenderlo e non l'ha fatto ecco questi sono già alcuni semplici esempi di pensieri di attacco quindi se sento pensieri di attacco è perché sento ostilità ecco cosa intende il corso con la parola vendetta perché se il mondo mi è ostile allora io devo difendermi io devo sviluppare delle strategie di difesa per proteggermi da un mondo ostile e questo in un certo senso è una forma vendicativa perché pensi che il mondo ti abbia fatto qualcosa e quindi pensi che tu debba restituirgli il colpo ecco sempre più quindi comprendiamo che se vogliamo sentirci felici dobbiamo decidere di vedere le cose in un altro modo e che se ci sentiamo ansiosi o con qualsiasi sensazione che non ci fa stare bene è perché ci dobbiamo difendere da un mondo che ci attacca è possibile uscire dal mondo di illusioni che ci siamo creati anche solo rinunciando ai nostri pensieri di attacco essendo coscienti che dipende tutto dai nostri pensieri di attacco e perdonarli allora questo viaggio questo percorso diventa un cammino che libera il vecchio tutti quei pensieri che siamo abituati a fare ad avere in reazione a ciò che accade nella vita liberazione da un pensiero limitato un pensiero di preoccupazione di sopravvivenza perché poi quando ti connetti con la tua presenza ti rendi conto che in realtà non devi sopravvivere a nulla e nessuno può toglierti niente non ti devi difendere nessuno può toglierti la vita che sei e quindi non c'è niente di cui aver paura non puoi neanche perdere né vincere tu semplicemente sei sempre se noi continuiamo a vedere noi stessi come forma come personaggio continuiamo a percepire questo mondo in continuo cambiamento che tutto può cambiare che da un momento all'altro qualcosa mi può essere tolto invece no è come il silenzio nessuno può togliere il silenzio a nessuno nessuno può togliere la tua presenza quindi torniamo alla legge suprema così come decido di vedere così sento così creo il mio mondo è una mia decisione volerà avvicinarmi alla verità e l'unica cosa che non me la fa vedere è la mia decisione di non vederla e per vedere la verità devo rinunciare ai miei pensieri di attacco e di difesa devo rinunciare al pensiero che dice che il mondo è ostile e che mi può togliere qualcosa e smontando questi pensieri di attacco allora io comincio a capire che tutto ciò che mi accade è ciò che è meglio per me passando alla seguente idea tu non sei responsabile di tutto ciò che ti succede non puoi controllare gli avvenimenti per evitare che ti accadano cose in futuro perché questo ti porta chiaramente alla sofferenza è uno stato di ansia costante inizia a guardare le cose in un altro modo quando senti il desiderio di controllare o rifiutare ciò che ti accade ricorda che tutto ciò che ti accade ha in sé il seme per la liberazione di ciò che lo sostiene che è un sistema di pensiero tutto ciò che ti accade è l'opportunità che ti permetterà di vedere le cose in un altro modo ti accorgerai che anche se ciò che ti succede a volte non ti piace in quell'accadimento c'è proprio l'opportunità di accorgerti che in realtà senza la tua aspettativa senza la tua idea tutto rimane con me la tua pace rimane intatta la tua presenza rimane intatta che la tua pace la tua felicità non era legata a quell'accadimento quindi quello che prima ti toglieva la pace ora ti accorgi che non lo fa e che la pace è sempre lì e non importa se si tratta di qualcosa di leggero una persona che non ti saluta e tu non mi ha salutato chissà perché allora vado dall'altro mio amico gli dico ecco hai visto come si è comportato male mi ha tolto la pace decido di vedere in un altro modo decido di vedere che quella persona non mi ha salutata accolgo questa questo fatto e noto come dentro di me non è cambiato niente la mia pace intatta oppure può accadere che sto male fisicamente e questo accadimento mi ha fatto mi ha messo in difficoltà mi ha non mi ha permesso di lavorare non mi ha permesso di stare con mio figlio come volevo mi ha fatto stare molto male però mi accorgo che probabilmente il significato di tutto a me non è al momento visibile ma c'è e che magari sarà quello di aver bisogno di riposare ma non è l'importante quale sia lo scopo di questo dolore fisico ad esempio che che posso provare è importante l'accogliere accogliere il fatto che io non so non posso veramente percepire cosa sia meglio per me perché non percepisco fondamentalmente nulla correttamente quindi come posso io sapere se ciò che mi sta accadendo è bene o male mi affido totalmente al ritmo della vita e decido di vedere in un altro modo ciò che mi sta accadendo in questo modo torno cosciente del fatto che la pace l'essenza e la presenza sono lì tranquille quindi tutto ciò che accade è per il tuo bene tutto ciò che accade è per vedere quello che c'è è per sentire quello che c'è è per essere quello che sono l'ultima idea dice non conosco lo scopo di nulla perché lo scopo è il tuo bene tutto ciò che accade è per il tuo bene tutto ciò che accade è il seme potenziale per liberarti sta dando a te la possibilità di liberarti quindi godiamo di questa bellezza puoi trovare il testo della lezione nel profilo instagram leggendo miracoli e ci risentiamo con la lezione numero 56 buona giornata